Per vincere la corona e una notte d'amore con me Ditemi, cosa desiderate di più? La pace nel mondo No! Beh, io ho team tutto a secondi, cos'altro potrei voler di più? Con tutto a secondi hai 800 minuti al mese per chiamare tutti a 3 euro a settimana per tutto il 2013 Non sai che devo andare? Ho lasciato la gondola in doppia fila Aspetta, metti grotto mio! La donna è mobile, vengo con ti!